Informiamo i telespettatori che a causa di una censura perpetrata ai danni del canale di Giuseppe Alberto Foresta su YouTube di presunte violazioni da parte di un gruppo dell'evitenza privata televisiva italiana questo canale osserva nella giornata odierna una giornata di sciopero totale dell'informazione tv del passato il comitato di redazione di TG Ricordi si riserva un ulteriore pacchetto di scioperi qualora non si faccia marcia indietro su questa censura